Io mi sono impegnato anche come provincia a dare ossigeno alle imprese, alle aziende, alle ditte che hanno erogato dei loro servizi, hanno dato delle loro prestazioni a noi come provincia e che ora ci hanno portato alle parcelle e noi non siamo in grado di poter onorare, pur avendo una disponibilità di cassa di 133 milioni di euro, però per il patto di stabilità noi non possiamo pagare i nostri creditori, noi siamo debitori, abbiamo la disponibilità finanziaria e non paghiamo, questa è follia, ma è una campana che suona soltanto io, mi sembra a certe volte di essere una sorta di Don Quixote o di voce nel deserto, non si riesce a colloquiare, a parlare, a dare una risposta, un'azione concreta, comune su questi episodi qua, su queste problematiche qua. Allora io mi sono interessato come provincia di Bari, ho coinvolto alcuni istituti bancari, tutti quelli che vogliono ovviamente, a far sì che loro possano farsi carico di pagare queste aziende, queste ditte, queste imprese che hanno lavorato per noi e poi noi nel 2012 pagheremo questa situazione debitoria, naturalmente aggravata di interessi, nonostante noi abbiamo una disponibilità di 133 milioni. Ma come si spiega tutto questo? Per questo lei ha lanciato anche un appello, però Presidente, l'interrompo, torniamo poi su questo argomento, volevo dare la parola ad un telespettatore. Pronto? Dillo a Schitturli. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo fare un invito alla Presidenza Schitturli. Sì. Siccome abbiamo un'associazione per quanto riguarda la mala sanità, i nostri angeli, stamattina abbiamo fatto una manifestazione davanti all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Sì, perché abbiamo dato anche noi il servizio, abbiamo realizzato il servizio per il telegiornale. Siccome stasera abbiamo una conferenza, un dibattito nell'auditorium della Chiesa San Paolo, al quartiere San Paolo, saremo molto lieti se il Presidente ci facesse la sua visita. Io purtroppo, subito dopo, ho degli impegni in provincia. Al limite, quando mi sbrigo, ma non so a che ora voi, fino a che ora voi starete, posso passare senza altro. La conferenza, Presidente, inizia alle 5 e mezza. Saremmo veramente molto lieti di avere la sua presenza. E se riesco, perché so che è l'ultimo appuntamento, credo che sia verso le 19.30, quindi se riesco, per le 20 potrei passare la salute. Per le 20, Presidente, se può fare un po' prima. Non dipende da me. Per la 20 la ringraziamo tantissimo. So che lei è una persona molto sensibile a... Non dipende da me. Io comunque per le 20 le posso assicurare che ci passo. Allora, facciamo così. Perché l'invito me lo sta ponendo ora. Gli impegni già sono stati cadenzati e calendarizzati. La verità, Presidente, è stato invitato anche l'assessore alla Sanità Fiore, poi Emiliano. Cioè, noi veramente... Ma a me non mi avete... Io ci credo tantissimo che ci facessero la sua visita. E io sarei onorato, però non mi avete invitato. Mi state invitando ora. Presidente, la verità, ci sono stati dei problemi, anche perché poi la Pio... Non è che non vi abbiamo invitato. No, 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 ci mancherebbe altro. Io ho visto stamattina... Anzi, non l'avrei chiamata. No, 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 io la ringrazio. Allora, facciamo così, facciamo così. Lasci il suo riferimento telefonico in regia, in modo tale che magari il Presidente... Non solo telefonico, ma anche logistico. ...in contatto con voi. E poi magari lascia anche qualche riferimento sul luogo della conferenza stampa. Io comunque sono disponibile anche a poter partecipare, anche in tempi successivi, ma stasera comunque per le otto. Credo di poter senz'altro essere tra voi. Vi ringrazio per questo invito, sia pur fatto all'ultimo momento. Dico questo quando io parlo di raccordo, di sinergia, perché sarebbe tanto bello fare dei dibattiti in comune, anche da parte di persone che evidentemente hanno una concezione o un pensiero diversificato l'uno dall'altro. Ma guai se non fosse così, perché in questo modo si crea quella concretezza anche di risposta. Là dove c'è la diversità, là dove c'è non il conflitto, ma posizioni diverse che si vanno a confrontare. Dico questo perché stamattina mi è prevenuto, ho visto alle tre in provincia, che mi è prevenuto un invito da parte di un'associazione regionale, dove dice saremo onorati di averla, cioè tra gli ospiti, tra gli ospiti nel senso, e sono grato comunque, seduto in prima fila come presidente della provincia. Mentre al tavolo c'è il sindaco, il presidente della regione e qualche altro. Beh, io ho detto già di rispondere, ora rispondo proprio pubblicamente, ho detto già di rispondere, che la ringrazio, ma evidentemente avrò altro da fare quel giorno che venire ad ascoltare. Io voglio il confronto, voglio la risoluzione dei problemi, voglio che si affrontino i problemi per cercare di risolverli insieme, non per sentire bla 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 o il politichese, cose che a me non appartengono. E allora, 080 501 9998 per intervenire in diretta, se avete delle richieste particolari da fare al presidente, speriamo non siano soltanto richieste di lavoro, ma vanno bene anche le critiche o comunque suggerire degli interventi non fatti è ancora da realizzare, come del resto abbiamo fatto anche noi oggi. Andiamo con un'altra mail, il signor, è un telespettatore che ci scrive, il signor Giovanni, e dice sono un giovane pianista, diplomato e laureato, presso il conservatorio Nicolò Piccini di Bari, come tutti i giovani precari del mio settore, in cerca di un posto di lavoro che possa garantire almeno una propria indipendenza e autonomia. Io svolgo un'attività concertistica da solista, scrive il signor Giovanni, in duo da camera, con grande entusiasmo, determinazione e sacrificio. Sono anche studente di lettere e cultura teatrale presso l'Università di Bari, ma come lei ben sa, il concertismo non paga, se non sei un giovane già affermato e ben pagato a cachè. È tutto gratis o quasi, con misi e diversamenti di contributi tassati dalle imposte di registi o pagati a nero. Sto seguendo spesso le puntate su Teleballi, le ringraziamo per i commenti positivi a questo utile servizio che noi forniamo. E dice non è vero che lei perde consensi, come qualcuno, il suo collega politico locale dice, ricevendo e ascoltando direttamente le persone che hanno difficoltà familiari, economiche e di salute, ma lei agisce come filo conduttore tra le istituzioni e la collettività, i cittadini in cerca di occupazione del mercato del lavoro, che vorrebbero delle risposte alle loro domande o ai loro dubbi. Il signor Giovanni ha una richiesta da farle. Ha sentito nella puntata che verso fine anno saranno assunti 12 orchestrali che andranno a completare l'organico e chiede se queste assunzioni si faranno tramite concorso pubblico. Vuole sapere se tra questi 12 elementi manca la figura della Celesta, che è uno strumento richiesto di particolari composizioni ed opere. E poi se c'è qualche strumento o il pianoforte, dove è possibile reperire il bando e quando uscirà, se non è ancora uscito e se verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale di dicembre. Sono tante domande, ma tutte legate a questo concorso per l'assunzione dei 12 orchestrali, che mancano nell'organico dell'orchestra sinfonica. Intanto io non ho detto che saranno assunti i 12 maestri d'orchestra, ho detto soltanto che dobbiamo completare la dotazione dell'orchestra. Dobbiamo anche sapere l'orchestra della provincia di Bari che rimarrà tale e anche quali sviluppi avrà, visto che entro la fine dell'anno dovremo poter contare anche sull'auditorium in orota di Bari e quindi ci sarà un'espansione. Detto questo, se procederemo o meno all'allargamento e comunque utilizzeremo tutte le nostre potenzialità, tutti i nostri maestri della nostra musica e della nostra terra, perché io sono convinto che l'arte, la cultura, la musica sono espressioni davvero di nobiltà e che vanno, nobilitando l'animo, vanno anche ad incrementare quelle che sono le opportunità, la crescita proprio civile di una società, quindi su questo non ci saranno problemi. È ovvio che se vado a fare dei concorsi li farò pubblici, saranno pubblicati normalmente sulla gazzetta ufficiale, garantirò il massimo della trasparenza perché le commissioni non saranno commissioni locali, territoriali o regionali, ma questo non ha garanzia proprio dalla massima trasparenza e della massima professionalità, perché io credo molto nella meritocrazia e non nella partitocrazia.